Il messaggio di San Giovanni Evangelista Dato a Mario D'Ignazio Il 3 febbraio del 2024 Fratelli in Cristo, sono io. Sono San Giovanni Evangelista, con Maria Corredentrice guido voi del piccolo greggio di Dio, Chiesa rimanente degli ultimi tempi. Ascoltateci, seguiteci, obbediteci. Allontanatevi velocemente dalla Chiesa ecumenica e massonica regnante, oh i sacerdoti. Oh quanti hanno fatto naufragio, eresie, naufragio, in un mare d'eresie moderne. Modernismo, modernismo, amati figli di Maria Santissima. In principio era il Verbo, e il Verbo era Dio. A Cana Maria fa compiere il primo segno al figlio. Lei media, perché una mediatrice potente, Io e Maria Santissima rimanemmo sotto la croce dell'agnello. Tutti fuggirono, tranne me, aggrappato alla Madre Divina. Dopo l'accolsi a casa mia, l'accolsi in me, a casa, nella mia vita. Lei guidò me e gli apostoli. Al Cenacolo implorò lo spirito che lei già aveva. Lei, Madre della vera Chiesa, Madre del Cenacolo, Madre della Chiesa nascente, Madre del corpo mistico di Cristo, Madre dei discepoli e dei credenti in Cristo. Ella è Madre di Dio e Madre nostra. Guida del gregge, via divina di Fatima. Fatima mostra al suo cuore quale via privilegiata. Satana odia Maria Santissima. Sa che lei gli schiaccerà la testa. Lei, la nuova Eva, paradiso degli eletti. Ella vi prepara al ritorno glorioso. Gesù venne e verrà ancora per Maria. Ascoltate, Maria Santissima, ascoltatela. Ella è la vera Chiesa. Ora, lei è la guida potente. Non seguite le eresie attuali della falsa Chiesa di Roma, persecutrice delle vere apparizioni. L'ora della passione giunge oramai per la vera Chiesa rimanente mistica. Ore di tenebra, di sciagura, di desolazione, di morte e fumi neri. Il Pakistan soffrirà molto. La Russia farà scorrere molto sangue. Corrispondete alla chiamata di Maria Santissima e sarete salvi. Pregate il rosario in famiglia, a casa. Fate santi altarini e la comunione spirituale frequentemente. Ricordatevi che molti anticristi sono già apparsi nel mondo e vi saranno. La verità vi farà liberi. Lo Spirito e la Sposa, la Chiesa rimanente, gridano «Maranata! Vieni, Signore Gesù!» Ed ecco che io vengo, dice il Signore del tempo e della storia. Egli bussa i cuori. Aprite! Egli è l'Alfa e l'Omega, il primo di chi risorge da morte. E' l'Arche, il principio di tutto. Tutto sussiste in Lui e tutto fu creato da Lui. Gesù, in quanto Verbo Divino, creò il mondo. La Sua parola non cambia. I grandi della casa di Roma vogliono cambiarla. Hanno già cambiato molte cose. Comunione in mano, tabernacoli spostati in pseudo cappelle, tolti dall'altare maggiore, il velo tolto alle donne, il messale mutato, la ruggiada, il paternoster mutato in parte, la statua di Lutero in Vaticano. Quando si sa, si sa dove sta Lutero. All'inferno. Paciamama, bambola, cacina. Il Vaticano è corrotto e non segue noi ma Satana. Non seguitelo. Lì siederanno vari usurpatori del trono del vero Pietro, fantocci, strumenti di Satana e falsi profeti. Roma pagherà cara l'insolenza verso il cielo e le apparizioni rifiutate e condannate. Roma pagana sarà punita dalla divina giustizia. Lì si sentiranno le urla e il fetore dei corpi morti. Vi sarà un grande scoppio lì. Ma i cardinari cosa fanno ora? Non sanno cosa avviene tra le mura di Roma. Non sanno dei cambiamenti. Non conoscono la verità. Perché non si oppongono? Sono complici dell'impostura attuale per il potere e il denaro, per gli onori e i primi posti. Ma Dio vede cosa accade in Vaticano. Dio vede i cardinali corrotti e deviati. Dio vede i ministri infedeli e vaganti. Si ravvedano presto, prima dei castigli divini e dei flagelli. perché Dio punirà gli empi, malfattori, impostori, punirà gli impenitenti. Corrispondete al cielo, obbediti a Dio, non all'uomo. Ed io vi benedico. Io, San Giovanni Evangelista, guida con Maria della Chiesa rimanente degli ultimi tempi. Amen. Amen. Amen.